Quarantesima edizione per l'estate a Napoli, la rassegna culturale del Comune di Napoli presentata questa mattina al Maschio Angioino, che comincia stasera e prosegue fino a fine settembre. Musica, teatro, poesia, danza, cabaret, storie, racconti, mescolanze, in un calendario molto denso di eventi in buona parte gratuiti. Vorrei sottolineare veramente la grande partecipazione corale di associazionismo, istituzioni culturali, singoli artisti, compagnie, abbiamo tantissimo teatro, regina, la canzone classica napoletana con grandi interpreti, tante espressioni della nostra grande vitalità teatrale, grandi protagonisti. L'edizione di quest'anno ricorda quella di esordio ideata nel 1979 da Maurizio Valenzi, il sindaco comunista a cui è dedicata una mostra fotografica con immagini inedite della cultura a Napoli negli anni 70. Il cuore della rassegna sarà ancora il Maschio Angioino, che il 29 giugno si colorerà di blu per la giornata mondiale del rifugiato. Fra le sedi degli spettacoli ci saranno anche il Chiostro di San Domenico Maggiore, la Real Casa dell'Annunziata, il Cortile delle Statue dell'Università Federico II, l'Orto Botanico, il Parco del Poggio e tanti altri luoghi noti e meno noti della città. La gran parte degli spettacoli sono gratuiti e gli altri hanno biglietti molto popolari che servono per sostenere le compagnie, perché l'estate a Napoli non si fa dando contributi istituzionali, ma con il coraggio degli artisti che si cimentano con il pubblico. Apertura questa sera, 28 giugno, nel Cortile del Maschio Angioino con un concerto di musica jazz, mentre domani sera, sabato 29, saranno in scena les Amazons d'Afrique, un gruppo di cantanti africane che si esibiranno assieme ad altri musicisti. Stasera noi iniziamo con un concerto dedicato alle comunità immigrate e ai cittadini di Napoli, per farli stare insieme in un incontro di cultura e di musica. Fra gli spettacoli teatrali, il Reliard di Shakespeare, in scena a settembre con Mariano Rigillo, direttore della Scuola del Teatro Stabile di Napoli. Il Teatro a Napoli ha acquistato una dimensione importante, ci sarebbero da dire tante cose, comunque teniamoci intanto questo, sono soddisfattissimo in genere, ma d'altra parte nessuna soddisfazione si deve mai immaginare come punto d'arrivo, qualunque soddisfazione è sempre un punto di partenza. Questa è la città mondo, è la città capitale universale della cultura e la cultura detesta e contrasta muri, fili spinati, divisioni, razzismi e porti chiusi.